... ... ... ... ... ... a tredici tuts a mazza, a tredici soldi tuts, quanto ti fanno mazza? 75 75 era ancora attuale si chiama sacrifici e poi noi abbiamo aggiunto perché siccome i sacrifici si fanno sempre abbiamo aggiunto tira e tira in faccia si chiama tira e tira però tira e tira ve lo ti puoi spiegare scusate due secondi vi torno quando uno nella cantina se va di fretta c'è la botte che è stata ciavetta e vuoi prendere un po' di vino prende uno un tubo di gomma la cannola la infida dentro e poi si fa una tirata una zucata tira e tira tira e tira questa cannola a volte in sinicola sarebbe la volta del popolo tutti vengono a zucca in genere quando si tratta di mettere le tasse se la prende lo sempre con dire e tira dire e tira che è sicuro avete come hanno vissato uno ognuno a te e domani volo sacrifici tira e tira a 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